cosa faccio con la sua? aranzone aranzone io so sa no bisogna stoppere mi dobbiamo fare mi dobbiamo fare no 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 ciao a tutti ragazzi siamo Reppy e Molly e oggi ragazzi faremo un'altra challenge dei disegni siccome l'ultimo video vi è piaciuto così tanto guarda Molly che bella maglietta che oggi ha scritto Molly e Reppy Reppy e Molly se non li avete ancora prese comprate le nostre magliette sul sito che trovate in descrizione e poi indossateli insieme a noi e lasciate un bel like oggi perché faremo la ruota dei disegni colorati come potete vedere abbiamo delle lavagne bellissime oggi quindi le apriremo e coloreremo qui sopra pacchettiamo pacchettiamo forza vediamo che cosa abbiamo pacchettiamo tutto andiamo qua wow che bello oh belle grazie mamma per averci preso queste bellissime lavagne grazie allora ok apriamo qua così è una lavagna un po' strana questa eh è bellissima Molly mi fa ridere mi stavo per spiegare il gioco allora la sfida di oggi ragazzi consiste nel girare la ruota e poi si dovrà fare un disegno associato al colore che verrà quindi per esempio eh blu dovremo disegnare il mare il mare il mare il giallo il sul chi lo farà più bello vincerà ovviamente sarete voi a votare esatto voterete voi nei commentini iniziamo subito vediamo un po ok verde non abbiamo il verde giriamo giriamo che cosa viene il zallo tu devi usare il zallo io devo usare il viola il viola forza viola che cavolo ah me l'hai soggiorita tu cosa fare con il zallo viola 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 e ma non funziona uniposca bisogna sbatterla prima dai forza vediamo esce 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 dai tu sta uscendo guarda 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 e sta uscendo scelmi shakerà shakerà guarda che abbiamo anche il tempo shakerà vai 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 sono pronta no ma il tuo va già veloce allora faccio così ecco qua la coloriamo un po' ho fatto finito già finito aspetta io non ho finito ecco qua si capisce cos'è ragazzi io non ho ancora guardato dai si capisce che cos'è ehi ma io non sto vedendo ho quasi fatto ecco così lo facciamo anche simpatico ecco ho finito anche io vediamo io ho fatto una melanzana wow che bellina e io ho fatto un sole ragazzi votate il disegno più bello che vi piace di più votate votate sono proprio belle queste lavagnette grazie mamma di moglie eh no scusate no cancella 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 ecco tutto giallo vai prossimi colori vediamo che cosa viene te devi usare il l'azzurro ancora vai gira io devo usare il che cos'è l'arancione l'arancione ok vai 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 cosa faccio con l'arancione io so sa non bisogna sbattare sbatti 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 cosa posso fare l'azzurro non mi viene in mente niente dai non esce sbatti 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 ok così oh bello 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 ma non funziona così si vede ragazzi avete capito già che cos'è io non ho capito che cos'è avete capito che cos'è ragazzi si capisce arancione che cos'è arancione Rebby te che cosa stai facendo eh non si capisce dai oh capito ma cosa sono squali goccioline goccioline ah è pioggia eh no è l'acqua del mare ah bello e che succede amica ecco sì mi sa che sei stato più bravo te a questo giro ho fatto una carota e io ho fatto il mare votate il disegno più bello ragazzi via prossimo colore verde non c'è eh lo dobbiamo comprare se lasciate abbastanza like ragazzi ci compriamo il verde poi vediamo arancione te non puoi fare la carota eh vediamo io non abbiamo niente l'arancione ok però se l'hai te vediamo l'arancione l'arancione verde che non c'è verde che non c'è qualcos'altro il sole il sole non posso farlo tu non puoi fare la carota vediamo via 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 ce l'ho anch'io ce l'ho anch'io vai allora così qua così vediamo com'è fatta così 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 più o meno non lo so poi c'è il gambo qua ecco qua perfetto c'è un po' così un po' la coloriamo così si capisce ecco così questi colori non si suono ecco così perfetto io c'ho finito ecco quasi eh ci sono quasi anche io no si capisce ma l'ho fatto un po' così così si capisce che cos'è 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 aspetta eh che sto finendo anche io forzarevi il tempo sta per finire eh io ho quasi fatto sta per finire il tempo ecco ho fatto si capisce che cos'è ragazzi una banana una zucca di Halloween ho fatto una bella hai vinto 3 mi sa votate sempre e bella anche la tua banana voi votate eh siccome non li abbiamo ancora usati sulla ruota non ci sono io uso il bianco e io uso il rosa via via cosa faccio di rosa cosa c'è bianco ce l'ho ce l'ho anch'io forse allora ce l'ho ce l'ho vediamo wow che bello questo rosa eh ma non scrive questo bianco giudice giudice non scrive non vale ma come non vale ma io ho iniziato avete già indovinato scommetto che cos'è che cos'è rabbi eh un pochettino si capisce che cosa stai facendo no te lo dico allora così ecco fatto avete capito ragazzi allora avete capito che cosa sto facendo sta per finire il tempo rabbi e già eh sta quasi per finire arrivo 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 se fai il disegno più brutto ti devo fare i capelli verdi e l'hanno scritto gli iscritti no 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 cosa non è vero cosa scrivete ragazzi ecco qua fatto aspetta ecco qua ecco ho fatto anche io ho fatto è un migliore un attimo perché avevo sbagliato col bianco non sapevo cosa fare ho voluto fare questo carino ecco facciamo vedere ho fatto delle montagne innevate e io con il roso ho fatto un maialino bello votate ragazzi belle le tue montagne anche il tuo maialino è molto bello adesso ultima sfida chi fa il disegno migliore con tutti i colori via iniziamo vediamo io prendo questo hai già pensato io non so cosa fare quello che mi piace più di tutti è un bel paesaggio però non c'è il verde cavolo il verde è il mio colore preferito non c'è così facciamo un bel sole Reby ecco qua sono concentrata sto cercando di fare un bel disegnino faccio così perfetto poi facciamo altri raggi ecco io invece sto facendo un alberello di natale quindi adesso mi serve fare tutte le palline il verde servirebbe comunque cavolo vero? qualcuno che ci compra un verde che ci compra un verde? allora questi sono i raggi del nostro sole ecco perfetto questo è il nostro sole sembra una palla di pelo io sto facendo un alberello di natale con tante palline colorate cosa possiamo fare mi servirebbe questo ecco il giallo ecco adesso faccio la steliga ecco qua una bella nuvoletta così perfetto oh che bello c'è concentrazione nell'aria nessuno parla più nessuno parla ecco questo è il mio petto di natale ehi mi hai rubato il bianco oh scusa vediamo poi cosa possiamo fare facciamo un mare in burrasca vediamo io cosa faccio adesso adesso disegno un bel babbo natale babbo natale fai? sì faccio babbo natale ecco così poi gli facciamo mi servirebbe il rosso ma non ce l'ho faccio una barca io una barca wow bello faccio una bella barca così facciamo il cappellino arancione anche se babbo natale in realtà ce l'ha rosso però io non ho rosso quindi glielo farò arancione chi vince questo vince tutto esatto chi vince questa vince tutto ecco qua adesso gli occhi la barba la babbo natale così sta per scadere il tempo rabbia ecco questo babbo natale è un po' grosso sta per scadere il tempo sembra più un pupazzo di neve si sembra un po' grosso è bellino però allora ecco facciamo qui facciamo la vela la vela la facciamo così la facciamo wow bello il tuo disegno così ecco qua così uh perfetto che qui ci sono tanti pacchi regalo sotto gli alberelli dei bimbi ecco qua direi che ci siamo anche io ci sono quasi una bella ancora qua questi sono tanti pacchettini regali per i bimbi che hanno fatti bravi quindi molly non riceverà proprio niente per natale e qui c'è il capitano non ti sto ascoltando rabbia io sono il capitano e adesso scriviamo buon natale il capitano della nave con la barca un ancora ecco qua bellissimo wow bello bello buon natale anche il tuo buon natale facciamo un po' di neve facciamolo vedere ecco facciamo vedere il nostro disegno mi piacciono ragazzi belli una barca l'albero di natale con babbo di natale sì babbo natale babbo natale votate 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 bene ragazzi per oggi è tutto speriamo che questi disegni vi siano piaciuti e lasciate tanti like ci vediamo al prossimo video ciao ciao